il rossetto è un piccolo pesce adulto molto utilizzato nella gastronomia ligure oggi prepariamo le frittelle la pastella è a base di farina acqua lievito istantaneo per torte salate e un po di sale uniamo anche i rossetti e facciamo riposare per circa un'ora e adesso friggiamo in olio bollente